amiche amici blucerchiati bentornati sandoria spezia finisce due a due un po di sentimenti contrastanti partiamo dal se vogliamo piccolo dispiacere se parlato un po prima della partita del fatto che ci sia amicizia evidentemente tra sandoria e spezia e quindi l'idea di aiutare i cugini fratelli aquilotti a consolidare anzi a ottenere definitivamente la salvezza amalassi poteva anche starci a me personalmente non sarebbe andata granché a genio come idea perché nella scia degli ultimi campionati in cui verso fine stagione regaliamo punti alle altre spesso queste altre vengono identificate con squadre affamate mi ricordo non so ultimo uno degli ultimi casi l'empoli che venne a vincere un paio d'anni fa a fine stagione a fine stagione a marassi insomma e mi hanno sempre dato molto fastidio quelle partite lì quei risultati quel tipo di sconfitte perché danno un po l'idea di appunto di poche motivazioni e di punti regalati alimentano voci antipatiche non mi piacciono quindi questo è un pareggio che a noi cambia veramente poco ma da questo punto di vista mi soddisfa ed è una prova che mette un altro piccolo mattoncino su quel discorso di Ranieri bravo a motivare la squadra nonostante assenza di motivazioni squadre che si è ripresa questo discorso l'avremmo potuto fare meno se avessimo perso anche oggi dopo la brutta figura di san siro comunque 4 3 1 2 il modulo scelto ed è quello ed è rimasto quello per tutta la partita con due sostituzioni che però non lo hanno modificato nella sua struttura audero visto che queste sono le pagelle proviamo a farle dunque audero direi 6 ha fatto un paio di parate non difficilissime nel primo tempo su maggiore che gli si è presentato davanti da solo anche se la posizione un po' defilata poi lì gol annullato a piccoli per fuorigioco nel momento in cui stavamo soffrendo nel primo tempo nella prima parte nel periodo nel momento della partita attorno al gol dello spezia veramente abbiamo ballato e tantissimo e audero mi è sembrato meno convinto nella guida della difesa con le uscite anche un pochino più incerto con i piedi e quindi insomma l'abbiamo visto in in occasioni migliori ma dopodiché insomma partita sufficiente difesa 4 beresinski terzino destro il migliore dei quattro che hanno giocato dietro solido non ha sofferto più di tanto farias che ha avuto delle occasioni grosse ma nell'uno contro uno palla al piede beresinski è rimasto solido l'ho visto particolarmente preciso invece quando c'è stato da attaccare gravi problemi ha avuto la coppia centrale probabilmente dico una frase che un anno fa sarebbe suonata strana ma l'assenza di collei l'abbiamo pagata e come perché yoshida e soprattutto tonelli schielato da centrale di sinistra che di solito quando gioca vicino a collei fa il centrale di destra hanno sofferto parecchio yoshida ha fatto una partita nel contesto ottima sicura dopodiché ha fatto una bruttissima figura sul secondo gol di pobega facendosi diciamo ma cascando nella finta del centrocampista triestino ex pordenone e ternana come si dice spalancandogli la strada per il gol del 2 a 1 tonelli invece insicuro e balbettante per tutta la partita quindi io darei un 5 e mezzo a yoshida e un 5 a tonelli chiudo anche dicendo che ogni tanto ed era successo anche contro la roma i nostri difensori centrali nella fase di impostazione si allargano tantissimo si crea un buco tra di loro cosa che con l'allenatore precedente a di francesco non succedeva mai erano sempre molto molto stretti la squadra era tutta stretta ecco questa cosa qua invece ogni tanto capita e soprattutto nel finale di partita insomma ok giocare con la difesa alta rimanere aggressivi però c'erano degli spazi in cui i giocatori della spesa si sono buttati molto volentieri e solo per gravi imprecisione loro non hanno trovato ulteriori gol e si sono fermati a 2 serata abbastanza opaca anche per tommaso ugello da ex si è presentata questa sfida con ricchi saponara una nostra vecchia conoscenza che agiva da esterno destro del tridente a inizio partita 5 e mezzo per ugello che non ha fatto grandissime cose né in attacco né in difesa centrocampo a 3 con formalmente ecdal a fare il riferimento il mediano basso il vertice basso del rombo candreva janto mezzali con valerio verre riproposto trequartista la sua terza di fila la seconda da titolare nelle ultime tre quindi ci sta credendo evidentemente mister ranieri chissà magari tentando di valorizzare un giocatore che l'anno prossimo visto che non ci sarà più gaston ramirez potremmo vedere un po di più ma comunque allora candreva dicevamo partiva formalmente da mezzala a destra ma con ecdal schermato si muoveva spesso in altre zone del campo per impostare l'azione l'ha fatto con insomma a intermittenza diciamo è una partita da 6 quella di candreva con la grave mancanza sul gol dell'uno a zero la solita diciamo superficialità dell'ex centrocampista di inter lazio parma udinese livorno quando c'è da fare fase difensiva arrivava un cross dall'altra parte lui è stato come si dice in gergo tecnico ottimista ha detto vabbè tanto il pallone qui non arriverà e invece c'è arrivato ci ha creduto pobega e invece qua candreva deve essere pessimista farsi una corsetta a fianco a pobega per andarlo un po ad andare a contestare quel pallone che arrivava quindi sei per candreva 5 e mezzo per ecdal un po in ombra anche se sono contento di rivederlo in campo perché mi piace il suo modo di interpretare la regia chiaramente il dinamismo del della mediana di italiano l'ha messo un po in difficoltà e quindi un pochino abballato ha finito anche ammonito continuiamo a scendere con il rendimento del centrocampo perché se è stato 6 secondo me per candreva 5 e mezzo per hektar 5 per ianto che abbiamo rivisto nella versione in grave difficoltà come era quando giocava da noi nel primo anno con giampaolo che lo metteva appunto in questuolo di mezzala sinistra quando riceve palla in quella posizione lì non potendo fare binario con Tommaso Augello Ianto ha solitamente sceglie la soluzione sempre prudente del passaggio all'indietro quindi raramente abbiamo guadagnato qualcosa dalle sue giocate palla al piede 6 per Berre che ha provato a galleggiare tra le linee dello Spezia proponendosi lavorando discretamente qualche pallone e trovando il gol dell'1-1 con una ciabattata ma insomma l'importante era sbatterla dentro e direi che ci è riuscito è stato l'unico highlight della partita di Gabbiadini l'occasione dell'1-1 ha preso il palo, poteva forse già fare gol lui e toglierci qualche dubbio prima partita difficile per Manolo Gabbiadini 5 e mezzo e invece molto bene secondo me Fabio Quagliarella 6 e mezzo molto vivo belle giocate, dribbling, cross, presenza continua nella manovra e nell'area dello Spezia due cambi sono entrati Michel Damsgaard a fare il trequartista dietro le due punti ormai i ruoli del centrocampo li ha praticamente fatti tutti da quando è arrivato quest'anno 6 nel senso che è entrato nel gioco abbastanza si è sacrificato anche in marcatura sul mediano avversario Leo Sena e poi Nathan Nandez senza brillare ma senza fare cose gravi quindi un 6 molto bene invece elettrico Keita Balde che prova a mettere qualche dubbio qualche punto in più sulla possibile riconferma e riscatto dal Monaco firma il gol 2-2 importante 6 e mezzo quindi Keita forse il migliore col suo ingresso a partita in corso un 6 e mezzo a Ranieri lo do perché ripeto per me questa partita, questo risultato ha un peso importante dimostra che la squadra è seria c'è e non regala che ripeto una cosa che negli anni scorsi quando succedeva sempre mi ha dato molto cioè ogni volta che è successa mi ha dato molto molto fastidio stavolta non è successa e quindi direi bene così augurandoci che lo spezia si salvi comunque cosa che penso succederà grazie a tutti aspetto i vostri commenti qui sotto mi raccomando la pagina Meme of Sampdoria su Instagram per farci risalire con i follower che questi ragazzi, non tanto io ma i ragazzi che ci stanno dietro se la meritano e come ciao